Real Mutua è il mio sponsor della SPAL da quest'anno, siamo con Luigi Romanini, vorremmo sapere i motivi che hanno spinto Real Mutua a scegliere proprio SPAL per questo abbinamento commerciale. Diciamo che SPAL ha molte similitudini con Real Mutua, innanzitutto per la storia, la lunga storia, noi abbiamo quasi 200 anni di storia, come SPAL abbiamo quindi storia, grandi tradizioni, abbiamo un forte radicamento sul territorio, SPAL ha una bellissima tifoseria, per cui sono tutte cose che ci hanno indotto a iniziare insieme a SPAL questa avventura, abbiamo anche poi la consapevolezza che finalmente dopo anni la squadra ha una bella società alle spalle che ha voglia di investire, di fare le cose sul serio e questo è sicuramente motivo per noi di orgoglio per essere loro partner in questo momento e poi soprattutto fiduciosi di vedere alla SPAL ai fasti di un tempo che tutti sappiamo, per cui queste sono un pochino le ragioni. Noi poi vediamo il calcio non solo come un fatto sportivo, lo vediamo anche soprattutto come fatto sociale, fatto sociale educativo per i ragazzi, la SPAL ha un gran bel vivaio giovanile, credo che i ragazzini stando meglio sul campo di calcio imparano di più che non per strada, quindi questo è un altro elemento che ci induce ad essere vicini allo sport in generale, in questo caso il calcio in particolare. Oggi si è stata la presentazione ufficiale del main sponsor Reale Mutua. Presidente, è importante per la SPAL acquisire anche sponsor che vengono a fuori Ferrara, è un segnale che questa SPAL ha a PIL anche lontano dai propri confini? Beh questo sicuramente perché abbiamo sponsor importanti che arrivano proprio da fuori città, questa è Reale Mutua, ha tante agenzie anche nella nostra città e quindi è proprio una assicurazione del territorio, quindi già da un paio d'anni ci sponsorizzavano anche se in un modo un attimino meno importante insomma. Siamo contentissimi perché mettiamo un altro tassello importante in quella che è la nostra organizzazione, questo main sponsor, questo nome così importante sulle nostre maglie con degli accordi di proseguire questo rapporto anche nei prossimi anni, quindi è un ulteriore rafforzamento nostro d'immagine e soprattutto acquisire dei finanziamenti, dei fondi che ci permettono di continuare a fare dei programmi importanti perché questa città e questa tifoseria se lo aspettano e se lo meritano.